La vicenda legata alla morte di Giulio Reggeni. Sabato scorso, nel corso della sua visita a Poggia, il presidente della Camera Laura Boldrini aveva detto noi siamo uno stato di diritto e crediamo che su questa vicenda si debba andare sino in fondo. Tra l'altro Giulio Reggeni aveva una passione e un impegno della sua attività di studioso e ricercatore e bisogna ricordarlo anche in questi contesti. Intanto una televisione egiziana ha trasmesso un video girato all'insaputa del ricercatore italiano in cui lo si vede mentre un uomo gli chiede del denaro per curare la propria moglie Reggeni e rifiuta di farlo ma dà la possibilità di finanziare la raccolta di informazioni sul sindacato ed i suoi bisogni.